Eccoci ragazzi con un nuovo episodio di Tales of Arise. Dovevamo vedere che finava fatto il babbo del gruppo. Dovremmo ritornare di nuovo all'interno della la città. Qualcuno me lo faccio. Ho preso un'altra abilità non ho capito un altro attacco. Ho preso un'altra abilità! Ho bisogno di essere più forte! Ho preso un'altra abilità! Ho preso un'altra abilità! Ho preso un'altra abilità! Si, questo sarebbe stato apprezzato! Ma ho un'altra abilità! Ho preso un'altra abilità! Una abilità di cantare, posso guardare un'altra abilità di astra senza la scuola. senza la scuola. Quindi, una volta che la energia astrale è in place, puoi decidere la scuola quando vuoi? È incredibile! Sì, non ho capito completamente la scuola. Non c'è nessuno, sono spariti tutti. E' un po' di più. È un po' di più. No signo di Zephyr. Cosa che hanno dato lì? Siamo chiamati? E' un po' di più. E' un po' di più. Combatti? No, è subito una missione. Dei missioni su tre? Sì. 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 Abbiamo una nuova missione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. That should be enough to make the area more safe to travel in. Oh. Ok. Questa è completata. Vederei di facci tutte le missioni a sto punto. E poi andare sulla storia. Mesia 224? Now that's a weird name. Mesia is basically a code. It indicates it's a small village. So it's not its actual name? Then does that mean that 224 is... Yeah. It's merely a serial number assigned to it for a dedicated purpose. Woohoo! So the realm is even get to decide what places are going to be in this realm. Dove? I think there's someone in trouble here. Oh, let's see what they have to say. Eh? Oh! È blu! Sì. Non lo abbecheremo mai. Oh. Oh. Possibile da trovare. Andiamo a quest'altra missione. Yeah. Yeah. Hey. What? Huh. I guess. Yeah. Yeah. Interesting. All right. What? Che fa di qua? È bloccato? Ah. Dove farlo di augurare? Oh, semi di terra, buono Devo arrivare a quattro Ma non l'ho fatto Ok, by the way Yeah Oh Hey No, qua conviene che non vado Perché c'è la storia Faccio giù, vediamo che ci sta Non ci sta niente sta città Vediamo quest'altro che vuole All right Yeah How's this? Yeah Hmm What? Sì, in effetti la lattuga Non si sa come cresce fuori Ok, questa l'abbiamo completata Eh La bottiglia della vita ce l'ho piena La miseria Che devo fare? Li devo vendere questi? Ok Allora io mi vado a completare le missioni, poi magari vi faccio un video direttamente con la missione già compiuta, dire di cucinare qualcosa nel frattempo. E possiamo cucinare. Questo qui? Un uomo? Anche se no lo può fare nessuno. Che sono personaggi specifici che ancora non l'ho sbloccato. Allora. Di se mi è rimasto questo, no? È lattuga, quindi non c'è manco qua. Ma lo dà. Ah, ecco. E questo che è? Un altro? Un'altra missione? Ah. Un'altra missione. Un'altra missione. Un'altra missione. Adesso ho cambiato idea su come vestirsi? Mhm. No. E' una casa persa. 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 Non mi piace il tuo nome. E' una casa persa. 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 e' una casa persa persa. E' una casa persa manutenute. buono no faccio questo va bene ok ci puoi parlare tipo persona che faccio logo sci non vuole parlare se uno è allergico a qualcosa volevo parlare con te sì che sei contento basta hai già fatto troppo no volevo parlare pure con l'altra no quindi puoi farne una ma falò no che è lei? lei è un renin guarda, tutti saranno viaggiare insieme per un po' se tutto ciò che facciamo è riparare insieme a tutti invece di lavorare insieme penso che è importante che tutti comprendiamo insieme e lavoriamo insieme così ti mandano affanculo tutte e due oh buono, emblema nuovo che ci sta? quindi devo aumentare quell'altro ecco aspetta fammi aumentare qua perfetto questo questo è un nuovo attacco aereo io non ce l'ho l'attacco aereo ma che tanto non li faccio ah buono questo ripristi nel ba come se non ci fosse domani devo fare questi due devo fare 200 e 600 segniamo gli altri ecco è meglio questo via che via ce l'ho all'inizio della battaglia ecco coronarte non è male no devo fare prima questo assolutamente ehi non c'è niente recupero ecco ma non c'è niente non so di cosa le posso usare non posso ah è riuscita un'altra abilità di shion ah è riuscita un'altra abilità Stesso di questo, faccio il recupero dba e questo invece, ah si è uguale. Ripristino PC da sazzi. Ripristino PC dal termine della battaglia se gli effetti della cucina sono attivi. Eh, non è male. Buonissimo. Sì, è 500. La cucina in generale? Ma deve cucinare lì, chissà. Devo fare guarda. Aspetta, fammi vedere che fa questo. Ah, è un po. Dovamo. Devo vendere una qualcosa perché io qua ce l'ho. No, che cosa vende tutti gli articoli, è impazzito. Ah, bottiglia della vita. Ok. Ce l'ho pieno? Basta. Appoggia. Mi ha arma. Non mi conviene. Ah, ma io mi sa che... Maghetta non ci ho messo niente di cosa ancora. Stufeggiamento alla maghetta. Dov'era? Rotazione. No, così vediamo i DLC. No, per maglia non mi interessa. Facciamo la giochetta. Ammoniaca. Questo è il mare. La gufo. Però non mi piace nessuno. Lascio quella che ha. Questo ce lo cambio. Possiamo andare avanti. Devo trovare sti semi. I semi dove stanno? Niente di male a dire quello che si pensa. Se non ti piace non rispondere. Non preoccuparti, Hoodle. È bene. Ok. Ah, pensavo che era più grande. Deve essere questo. Temporio. Temporio, sì. Temporio. Allora, praticamente questi qua sono di acqua quindi dovremmo fare degli attacchi di fuoco. Io di lui non c'ho niente di fuoco. Quindi se ci metto un po' di tempo ad ammazzarli. Non ho capito perché. Ma gli elementi sono al contrario. Chi è questo? Non ho capito. Nonirmi. Oh, c'è da curarsi. Fammi salvare. andiamo andiamo vediamo solo un pacchiotto bene fatti eh ragazzi cambiamo compagnia ma va ma speriamo che sia di terra qui almeno è di acqua come al solito ok facciamo questo qua io non voglio vattene non voglio vattene ma che fai tu spaspo spaspo eh vabbè mi è scocciato ma se facesse un boost ogni tanto e chi fa il fuoco praticamente è vulnerabile oh grazie a Dio che fa? ha richiamato gli altri bastardo oh mi ha preso mi ha congelato pure e mi ha ucciso eh naggia naggia qualcuno mi rianima grazie grazie è troppo buona grazie No. Satti, ce l'abbiamo fatta. Eh, guarda. Siamo fatti una passeggiata. Ma non ci so niente. Andiamo avanti. E' buono tutto il pranzo, sta aumentando tutti i materiali. Adesso che cosa succede? Qualcuno li ha uccisi, forse? Cosa c'è? Non ho mai visto qualcuno morire? Ma come sono puritani. Li ammazzano pure loro. Li ammazzano qualcun altro, non possono. Un tipo sospetto. Può dire che è abbastanza forte da farci il culo. Qualcuno che conosce Shion? Eh, basta. Apparisce che c'è il teletrasporto? A quanto pare sì. A parte che farebbe il culo. A quanto sono un bugiardo di sto gruppo. Non c'è l'unico. Qu'è uno che vuoi che si fanno... ...when ci sono un uomo. Qu'è una luce? E se non è un uomo, il qu'è? Non ho capito. Non ho mai visto qualcuno come lui. Beh, non sembra di essere un amico, è sicuramente Ho spero che non rendi Ah, è una giostra, però... scott free because the snake eyes don't even bother chasing after us is it really a coincidence do you think it was a trap what but i would never if not for the whole astral arts episode i'd be worried but no she's not behind this perhaps an unwitting pawn in someone else's plan what all this to capture zephyr maybe all i know is it all slots together a little too nicely from my liking not the dwelling on it will get us anywhere trap or otherwise we've got a lord so we can't just march into the viper's nest through the front door surely there's a secret passage near spring on the outskirts of the city we can get into there ma come siamo fortunati huh why are you looking at as if this place wasn't cold enough it's also pitch black i'm amazed anyway seriously having all this snow everywhere makes it harder to walk or get anything calaglia is the walk in the park in the park it's dusty and there's rocks everywhere and it's on yeah you're right now that you mentioned it all those fires are a pretty weird phenomenon they were always so annoying to net out here fire is as important as water to our survival so are the trees we use for firewood is it that rare to see the sun here not just rare until i went to calaglia i'd never seen sunlight before i'd only heard about it i couldn't believe just how hot and bright it seemed to be but i guess in most realms it's pretty interesting isn't it the way the sorts of things people take for Direi di fare di nuovo questo? Ok, adesso a sto giro facciamoli. Vediamo se è il più predisposto a parlare di Shion. Parlano? Non parlano? Parlano tra di loro? Ma noi non sappiamo cosa dicono. Che ti deve fare il gufetto? Che cos'è? Questa è la foresta dei gufi? Andiamo. È la foresta dei gufi? Sì, penso che ci siano altri. Ed è, ti devono mettere gli occhiali? Non fa ridere. Abbiamo un nuovo abito. Questa è la foresta dei gufetti? Questa è la foresta di gufetti. Questa è un po' più grande. Questa è la foresta di gufetti. Questa è la foresta di gufetti. Questa è la foresta di gufetti. Questa è la foresta della foresta di gufetti. E già? Questa è la cultura della foresta di gufetti. si perde pure lei gufo abilità abilità nuova buono intervento il b a ripreso in obbiato con nemico sconfitto buonissimo vabbè questo è una stronzata però un attacco di luce ma vabbè faccio prima questo si tanto non è che ne ho moltissimi vediamo che ci do come sta lo sketch è bruttissimo tipo lui va a cercare nella spazzatura loro cosa darti vediamo ste armature no allora sarà 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 nella dotazione non è buono bello bello mi piace questo vabbè quella del gufo dovrebbe essere questa si non mi piace ok quindi con le rosse le ho fatti tutti ne so 2 e 3 4 e 5 6 e 7 e 8 9 e 10 opposto 10 per ogni cosa se ne ho solo 2 la devo esaminare la devo esaminare è vuoto opa per esempio mi fanno andare via 3 6 6 13 un altro punto per pescare non lo voglio pescare perché non mi fanno pescare è curioso ma poi te la donneranno che puoi pescare qua chissà penso che sì non mi fanno non mi fanno non mi fanno le bruci non ci hanno fatto la sadicia che brucio che brucio cosa stai facendo? Ma che vuoi che sia? Sì, è vero che ci sono state più volte. Usa questa passaggio quando bisogna andare in o dalla città. Stai ridendo da la fronte, lo che vuoi fare. Ciao, Hoodle! Vieni! Vieni! Non mi piace se, non mi piace! A freezing storm! Grazie a tutti Scion Si è sbloccato così? Recupero Per atterrare in piedi Ah aspetta 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 Munizioni speciali Un altro attacco d'acqua Mi servirebbero di fuoco Un'arma da fuoco Prima volevo fare questo 200 Non ce la faccio 500 La razza astrale Ah questo devo fare 200 ce l'ho fatta Vediamo Ok Aspetta La maghetta Non ci ho fatto niente Ma non c'è niente Perfetto Ma quindi dovrei recuperare adesso Schivando Schivo Dovrei recuperare il boss Più velocemente Ok Prendiamoci la roba in acqua Cos'è qua? Uh carino E ci sarà Un Emblema Printo Ma mi sembra che ce l'avevo Andiamo a pigliare il gufetto Donde sta Eccolo Lufo Ma non c'è bisogno che me la fai tu Si vede che sta qua Ma non c'è bisogno Non sapevo che saliste in automatico Oh una città fatta a città Qui sicuramente ci saranno Un botto di missioni Che ci servono per salire Le abilità C'è un gufetto Uffo Uffo Sta lì Ma perché ce l'hanno tutti Che Rindwell Raggin Shhh It's good to see you Who's this? They're with me If you say so Come on, Menik's waiting We can talk in there The name's Menik Leader of the Silver Swords And I wish I could extend My warmest welcome to you all But If my eyes don't deceive me You appear to have a renin In your midst If she is your prisoner That's a rather loose leash You have her on She's not a prisoner So why do I get the feeling There's a rat about the house No offense intended See, I've grown comfortable With the likely outcome I'll be stabbed in the back But stabbed in the front We risked our lives just to get here, sir If you want to send her away, fine But you'll lose me too I see Trust isn't about as short supply as light Around these parts And mine more than anyone's But I'll choose to believe you Forgive my manners You must be tired after such an arduous journey But to business We need your strength The Snake Eyes grip on the city Tightens by the day Our people are suffocating out there Hence the scouts I sent to find help We're at the end of our tether That's why we're here To help We've got the firepower to do it too But first We've got some urgent business to take care of Tipo? Che dovremmo fare? Ah, salvare Giustamente Il tizio vecchio He's being interrogated over at their headquarters Either that Or he's being put to work over at the floodlights First priority Is finding out where he is If you're planning on tagging along Rinwell will show you the way Just make sure to keep a low profile Remember It's not just the Snake Eyes Hostiles lurk among the villagers too This leader of yours He must be quite the inspiration For you to go to such like I look forward to meeting him someday Ah, ma qua si sbloccano emblemi a go-go No, incremento bia Buonissimo Ah, ma l'altra Quella che non serve a una mazza Ah, di lì non mi sbocca niente di abilità Allora Vediamo un po' No, non mi sbocca niente di abilità For all that long He's a smart guy But he's also deeply suspicious of other people I can- Really? I could tell he was wary of us at first But he seemed to warm up to us pretty quickly Yeah, that's pretty unusual for him In my case It took a long time for him But then again I kind of get where he's coming from You never know What made you join up with the Silver Swords in the first place? Was it the Snake Eyes? No It wasn't them I just Actually We shouldn't stand around talking People will start to suspect The Snake Eyes Ma facendo vini l'angoscia Ma attento a quello che dite A quello che fate Come camminate So that's where those beams of light have been coming from Right Any Danans accused of dissent against the Slodia's lord Are rounded up and brought here Then put to work It's a fierce deterrent And you think Zephyr might be in there with them? I want to see what the lights are all pointing towards Take us there Il capo ha deciso Damn You can see where the floodlights converge from all the way over here I want to take a closer look Be careful If anyone's even a little suspicious Right What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? Still there are a fair amount of people out on the streets Isn't it safer to stay at home? That's the thing If you stay cooped up too long People start to suspect you're hiding something Damned if you do Damned if you don't So people feel like they have no choice but to turn others in So they don't get in trouble What a miserable way to live At the very least We should probably go someplace where there aren't so many We already stick out here like a sore thumb as it is So I think it's don't look anxious Just walk firmly and look like you have a destination What? Is sticking to the plan too much of a hassle for her? This is why renans are the worst I don't know if it's a renan thing or not But she does have a point Anyway, we're not gonna get anywhere just standing around Let's get down No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, 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 no. 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 All my old man ever cared about was sticking it to the Brideyes. He never even made it to Mom's funeral. So you become an agent for the local lord? You got a problem with that? You're not exactly one to talk, keeping company with a Renan woman. You think you know her, but wait until she has a choice between you and her people. I may have become an agent for the Renans, but at least I'm here trying to soothe the agony of my people from the inside. What's your excuse? I don't buy it. No. You're running because you're scared. You think you're the only one who's had to suffer? What the hell do you know you... I don't buy a person. Damn you! Word to the wise? People like you make me... Look, I don't know what happened between you and your father. But what I do know is that when you fought back at the village, he wouldn't raise a hand to strike you. Perché non fatt niente manco prima. I've never seen Zefra back down from a fight. But he could never hurt his own son. And when he said he was staying behind, I think it was because he wasn't willing to abandon you. If you know anything, then tell us. I... I don't know where they're keeping my... All I've heard is that they're going to publicly execute him. In the plaza in front of headquarters. To execute him? Thank you. You did the right thing. Why are you so determined to help my father? Zephyr is the reason I took up the sword. He taught me how to think for myself. Ma non saprei So, I get that you perform a certain type of astral arts, but why does your magic look so diff- I'm not exactly an expert on how renans cast magic, but we both manipulate astral energy Like how you chant your spells, whereas they throw out those weird symbols? Yeah, and just like how there are different ways to use a sword, there are elemental differences between us too For example, light is only in Dana, and darkness is only in Rena Ah, alright, that makes sense, so let me ask, does that mean you can't use any dark magic at all? Or that they're just more attuned to it? Basically not at all, since I don't have any dark energy inside my body There might be an indirect way to tap into it, but I wouldn't know I didn't learn everything that my family knew about magic, so it's hard for me to say for sure Fair enough, thanks for teaching me all that, I really do appreciate it Okay, just as well Thank you We'll try again It may take a little longer Sì, abbiamo trovato la nostra propria, ma non è bene. Ci stanno imparando a fare Zephyr in la plaza, in fronte di Snake Eye's headquarters, e pronto. Ci stanno a che? Non ho mai conosciuto per i passi così veloce. Ci sono credo che ha posito una grave threat. Ci siamo dovuti andare a scoprire, possiamo usare la vostra aiuta. Non sarà facile, ma sicuramente possiamo pensare di qualcosa. C'ho beccati? Cioè, praticamente è sempre così, trovare una scusa per non aiutarci. E dobbiamo fare tutto noi. Loro creano questa distrazione di massa. Eh, sì. E infatti, non vi lamentate, andiamo avanti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, ma l'hai fatto? Vediamo questi di che cosa sono. Sembrano i Digimon quelli. Chi è che lancia alcuna cosa strana? Ma si dovrebbe il primo a caricare? Praticamente, se qualcuno sta per attaccare con la magia che si sta caricando, gli fa il boss di lei e lo blocca. La magia in più assorbe l'energia astrale che stava utilizzando e la usa lì stessa per creare un'altra magia astrale. Ah, ma so io che posso farlo. Dov'è? Si, ma io che artigio ho. Acqua. Acqua. Ma dovresti usare fuoco, che non c'è niente. Nell'altro dobbiamo assorbire il fuoco che ci levava i punti cura. A sto giro dobbiamo aiutare la gente che ci leva i punti cura. Quindi, è una prassi. Prima del boss c'è qualcosa. Che schifo è. Che schifo è. Allora, vediamo a sto tizio qua. Che cos'è? Acqua. Quindi dovremmo bloccare e colpire la lingua. Oh, sta lanciando l'arte. Oh, bravo. Oh. Oh. Noa. Ma tipo paralisi. Non mi sa dovevo mettere meno. Posso cambiarmi? Allora. Paralisi. 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 Ok. Vediamo. Forse mi fa meglio di peggio. Oh, non ho fatto il coso don di paradisi. Non mi sta ingato. Ma perchè non mi fa fare quello? No, grazie a Dio siamo riusciti a toglielo. No, 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 no. No, 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 no. Ma perchè mi fruga sera da me? Sì Dai Ma io voglio colpire l'altro Sono più fastidiosi questi Sì 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 Cosa con gli altri che abbiamo lasciato, Minnick si può capire? Prendete un po' di credito. C'è un po' di qualcosa che succede? Hey Hmm Right Grazie a tutti. 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 Eh, adesso li batti. Ah, quindi abbiamo preso delle arti nuove? Ma così? Non le fanno uscire perché si arriva dalla storia. Ah, secondo me hanno sbloccato un po' a tutti. Quando secondo me questo muro è lo stesso? Ah, vediamo qui. Sì? Sì? No. Oh, non è manco di qua, che ne so. Sì? Ho lasciato mio figlio. Alla mia vita ho dovuto combattere, ma non c'è nulla ma perdita. 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 Dopo tutto, le persone e le cose che stavo chiedendo per proteggere le persone, sono dei pagamenti. Non mi ricordo di mantenere la scuola per una seconda. Ma ancora, non è solo un giorno, quando non penso a quello che ho perduto. Non raccontare gli altri quanto mi hanno piaciuto davvero prima di più tardi, questa è la tua risposta. Questo è il più grande errore della mia vita. Facciatevi un favore e non diventate come me. Non continui a fare i stessi stessi stessi, fino a che è troppo tardi per riuscire. Perchare cosa è che non potessi perdere. Cosa vuoi protegere con tutta la sua potenza? Allora guardate e non lasciate perdere! Questo è abbastanza. Oggi ascoltare quella voce dentro di te. Insieme, nessuno può perdere te. E' ancora? 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 Ma magari lo liberi? E' ancora? Endasce me, dai? Andate su? Inoltre! Och, dimmi... No, non mattino! andate su! Letta! Manah, ma senti? So you're the sun, are you? I thought I'd ordered for you to be relieved of your duties until all this was over. I'll see to it the person at fault is reprimanded appropriately. What? Oh, well, you've served your purpose more excellently than anyone could have hoped. Oh, well, I don't know. If it isn't the infamous Alphen of Calaglia. And he's joined by his fellow conspirators, the likes of Traitor and a Danon Witch. They're not conspirators. They're friends. I don't know. And they're not alone. Oh, Menek! You finally made it! Your reign is over right now! You hear me, Cannabels? Hmm. Oh, yeah. Sort of a luce. The Master Corps is acting up. What is it? Menek? I was hoping to drag this out a little longer. But that's a Master Corps. What? It's him! It's him! No, Dan! So the Master Corps react to each other, I see. How interesting. You can drop the act. It's over. He's so beautiful. I like this scene. All this time? It was really you? Every second. And now? You stand before the Lord of Cicelodia, Ganabelt Valkyris in the flesh. You mean... A Revan Lord's been leading the Danon resistance? You're not the only one skilled in the art of deception, you know. A mere side vocation in my own case, but... sufficient in bringing the blazing sword of Calaglia to my roster. What? All of this was just to get to me?! Alvin! Zephyrus! Dad! Dad! That's a special poison. Ordinary healing arts will do you no good. I wouldn't fret about it, friends. You'll all be dead sooner, huh? Don't even think of escaping dissonance! We need to hurry. Otherwise he'll... We're not getting out of here without a fight. No! No! Alvin! Oltre il limite, esegui schivato e perfetto e subisci danni per attivare brevemente un limite. Quale le arti non consumo abbiamo e non possono essere interrotte nemmeno? Ricorda che anche i nemici dispongono dell'oltre limite. Mob? Arti mistica. noto, waspuglio! Ah. Certo! Non so se conviene farla... alla fine. Quando dura sto limite? No, no. Conviene farla quando sta per finire. ma non la fa fare che carine niente assalto non ce la faccio a farlo ma si è avvelenato il muore quindi era a pausa bella mi piace questa svolta di eventi ecco ti devo dire se la vede ancora un rifugio? devo controllare le nuove armi armi o armi a parte armi estrali che abbiamo preso tef tef per favore open your eyes I'm sorry I can't stop the poison's advance thank you Zephyr the struggles in your hands now are you there my son yeah I'm here I'm here dad please just I can't see you are you there I don't know I don't see Sante sta perdendo i sensi I should I've always I don't know non lo sapremo mai non lo sapremo mai non lo sapremo mai riserva mazzare lord non ho nascosto tanto non ho capito che mi lasciare a questo non ho capito è proprio gli gannibalti chiamano con i corolli non puoi essere non era il suo caso il quale volevo adicare la regia o piacere a Calaglia non mi non permette di rientrare le parole non mi posso dire non devo dire che abbiamo non ho bisogno di venire il nostro coro è mio a non si non si 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 i i i i i can you play the play 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 Non ti preoccupi di essere scambiato? Non è possibile. Ho scambiato questo scambio con le mie due mani. Mennick, non c'è Gannibalto, non sapeva che sia. Allora andiamo. Il momento per evitare Zephyr e liberare il mondo del mondo! Mi sembra stupido come personaggio. Vediamo se hanno sbloccato qualche abilità. Ah, questi sono quelli dei costumi. Vediamo l'unica. ... Grazie a tutti. La riduzione del lancio, delle arti, delle combo è buono. Non so se metterci pure queste altre arti, non c'è niente. Non c'è niente, non c'è niente. Ci sbolco le arti. Allora... Devo sbloccargli questo... E... Non vuole sto... 200... E... Non ho visto lui. Allora... E... Aumentiamo... Post... Falto... Ma tecnica quest'acqua non mi sembra granché. ... 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 Faccio... no. Per mangiare fuori. Facciamo la missione. Ah sì, posso farlo. Perfetto. Vediamo come fa questo po' di attacco. Perfetto. Perfetto. Ma perché falli? Dovrei farlo io, scusa. Oh. E' rimasto un altro qui. C'è? Is that the Zougul were looking for? Take it! We're probably getting started! We're on! Come on! Don't be sure. That's enough, take this! Ready and ready! We're reaching cap to my opponent. Get inside. Zougul! ciao Questa ci tengono la loro vita? Questa è una cosa difficile, per mantenere i fogliari. Noi non vuoi... È così. Una volta che la Gannabelti è fuori dalla scena, le cose in Syslodio... Si. 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 Allora, le missioni secondarie le abbiamo fatte, ora rimane quella principale, io per adesso stacco, se vi è piaciuto il video mettete un like, se volete continuare a vedere come prosegue la storia iscrivetevi al canale, ciao ciao!